oh mio dio avete visto wow è tornato papà lo guardava youtube però c'è tanto qui sì 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 l'ho visto spero ha sempre fatto dei beat puffs insomma quei rumori così con la bocca oi non avete visto italiana scottolento sono stati bravissimi spero che ci andrò più oh non lo so non lo so il video di youtube cosa le guarda youtube ma è troppo vecchio sì non è mica per lei l'avreste mai detto con la youtube ah sì 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 altrimenti cosa guarda su youtube ciao sì 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 potrebbe essere tuo fratello ma non penso che faccia youtube videos no potrebbe essere ma non dico niente oh sto pensando anche un canale di matematica potrei aprirlo ma no no Dave cosa ci fai qui non sei nella nostra classe vai nella tua sì sì scusami ero solo curioso che fa philip oggi tutto il giorno non ha detto niente si comporta male ehi philip tutto bene ronyan sai cosa philip gli hai fatto qualcosa eh no stavolta non ho fatto davvero niente stavo solo imparando un po no 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 non c'entra ronyan ok è solo una brutta giornata una brutta giornata oh philip non ti preoccupare no no c'è matematica oggi ma c'è ancora una cosa peggiore no no non te lo posso raccontare è un po' la cosa privata ma un tra un po' non più insomma no philip è successo qualcosa a casa? hai di nuovo il crebbi con tua mamma? no 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 ancora peggio ciao philip siamo arrivati cosa? è un problema perché c'è tua mamma non è mai stata qui no 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 questo non è il peggio guarda chi ha portato ciao sono Antonio che bello essere qui ehm di venire a trovare il mio fratellastro oh oh chi è il tuo fratellastro? oh no 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 non ho bisogno di saperlo ok sì sono io insomma però oggi non devo venire mamma cosa fai avevamo detto di no ma philip Antonio era così contenta di stare un giorno con te a scuola sono la mamma di entrambi è un problema? ehm se Antonio oggi è qui? ehm insomma sarebbe stato bello se mi avesse avvisato prima però vabbè tutti dovrebbero sapere la matematica ah sì che bello hai sentito philip posso stare tutto il giorno qui? oh oh sì fantastico no orribile oh non ho voglia di Antonio è così cattiva philip ce la vuoi presentare? mh sì va bene va bene Antonio questa è la mia classe classe questa è la mia super ner... mh sopportabile solo il nostro perché sei così cattivo? perché? ah meno male che mi capisce sempre così cattivo oh insomma puoi essere un po' più gentile per favore? oh sì 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 certo perché non la conosce ancora è super cattivo ok ora sto solamente facendo finta ah sì sì certo sono semplicemente una ragazza faccio cose da ragazza ah sì ma philip come fai a fare così? vieni Antonia vieni con noi oh sì è super carino da parte vostra mi sa simpatica eh però insomma oh sì fantastico ora anche gli altri ce l'hanno dalla sua parte così come con la mamma oh com'è invece è super cattiva oi 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 dovresti essere un po' più gentile con lei no? guarda quanto è carina di sicuro brava in matematica ora pure lei oh sì fantastico sai cosa Antonia puoi sederti anche qui vicino a me philip di sicuro oggi vuole sederti da qualche altra parte no? l'ultima volta quando mi sono addormentata ho dovuto dormire sul pavimento non voleva darmi spazio davvero a philip queste cose non si fanno no 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 non faccio nemmeno io così con mia maiula certo racconta pure le tue cose io devo stare saluta qui grazie Antonia grazie ma philip non ho fatto niente sto solo dicendo la verità oh certo la verità sì oh certo ora le crederanno perché loro sono femmine a me non credo nessuno ovvio insomma conosco philip di soli è super carino ma magari solo per la camera che è stato così no? a proposito di camera insomma mi ho preso il tablet, il mio smartphone e poi diceva che era suo perché siamo una famiglia ma io non conosco questo philip sì intendo te non c'è bisogno che mi guardi così cosa? di cosa si parla? Antonia cos'è con il contatto di nuovo? oh no 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 potresti essere un po' più geloso, un po' più carino no? ah ehi insomma non so è davvero antipatico ehi non è vero non è vero ehi tu zittore ok? domani prepari la colazione per tutti ok? oh grazie grazie Antonia grazie per colpa di te ancora più guai eh non è la tua classe è la mia classe oh meno male questo giorno è quasi finito anche se a casa in realtà Antonia dobbiamo andare va bene va bene sono contenta di avervi conosciuto a quanto pare ora forse devo sistemare la camera di philip non so cosa farà no 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 Antonia non te lo faremo fare puoi venire da me oggi philip Antonia oggi non sistemerà la tua camera oggi viene con me tutto il pomeriggio ai 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 non è giusto non è giusto ho detto alla mia mamma che viene con me a casa che non la lascio da sola ah allora devi venire anche tu da me ah no grazie grazie mi hai davvero salvata dodo philip ah no non è possibile ne credete tutti davvero non è vero lo so per te è strano che le persone siano gentili con me cosa? però non dovresti fare così ah ah oh philip ora basta parlare lo sappiamo quanto sei stato cattivo con lei ok? vieni Antonia vieni con noi ehi mamma eh sì philip e sua sorella Antonia sono con noi ok? possono stare anche a mangiare ma certo Anna mia sto preparando a mangiare va bene? oh cosa c'è la pasta? farà di sicuro la pasta migliore del mondo oh oh ma che carina i miei bambini hanno sempre qualcosa da dire quando vado a mangiare ma tu sei sempre contenta? non capisco davvero come si fa non andare d'accordo con Antonia a una ragazzina così carina oh certo tutti le credono tutti no addirittura la mamma di Anna non l'avrei mai creduto invece Anna è la tua camera wow sì esatto è la mia camera e puoi sentirti come a casa cosa? hai anche un animale? oh ne vorrei uno anch'io proprio come il tuo oh via via le mani Antonia via no 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 non puoi niente animale per te Filippa cosa vuoi? via da me oh Antonia se vuoi puoi carezzarla e prenderla in braccio no credimi sta solo facendo così non è così oh Filippa penso che tu sei quello che non è carino sei così geloso invidioso non ti riconosco oh adoro questi video anche tu anche io adoro i babies è la mia youtuber preferita oh penso che noi due diventeremo due grandi amiche Antonia dovresti venire spesso qui oh sì 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 ora cosa faccio qui tutto il tempo? ah cosa ne so tu volevi venire allora vai da Julian magari è là no? ok ok a quanto pare vanno davvero d'accordo ma no 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 Antonia non può essere ah finalmente è andato via dai raccontami un posto di lui cosa fai di solito? ora ascoltami ragazzina non ho voglia di te la tua camera fa schifo il tuo animale anche ok? volevo solo conoscerti perché mio fratello è innamorato di te e ti dico una cosa fuori via da lui cosa? è successo qualcosa? sì tu sei successo accidenti sei insopportabile proprio come Philip sono contenta che non sia venuto da noi ma che viva qui no 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 capisco perché Antonia è diventata così una volta no ah volevo prendermi per mangiare c'è pronto da mangiare ah che profumo è davvero la mamma migliore del mondo arriviamo subito oh sei così carina Anna dovresti assolutamente diventare sua amica mi piace ah ah Antonia può essere che tu sei una doppia faccia stai zitta non dire niente ok? altrimenti le prendi oh my god Philip aveva ragione tutto il tempo e allora vado dal tuo Philip vai 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 se vi vedo insieme saranno guai oh no 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 non mi fai di scuro faire Philip devo parlare con te oh e Anna non volevo giocare con le cose di Julian si arrabbierà di sicuro ok? no no non mi interessa non mi interessa si parla di Antonia tua sorella e insomma ho visto la sua vera faccia oh finalmente finalmente l'hai mandata cosa? no no nella mia camera cosa? no no non dirmi da sola non dirmi da sola non dirmi da sola oh no ruba le cose ruba tutte le cose mi hai rubato così tante cose oh oh rubare? cosa? no 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 il mio smartphone il mio computer oh c'è ancora tutto meno male oh no vorrei fare insomma non c'è Pia cosa? oh mio dio no 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 si è presa Pia il mio mia piccola Pia oh no no chiama la polizia fai qualcosa no 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 non ti preoccupare non ti preoccupare la troveremo ok dobbiamo semplicemente far vedere la mamma che è davvero cattiva oh no mi ha rubato il coniglietto come si è potuto eh tesoro dove è la tua amica Antonia? mamma non chiamarla mia amica è cattivissima sai cosa ha fatto? mi ha portato via Pia il mio coniglietto ora capisco perché è uscita pensavo dovessi andare in bagno no no lo fa sempre ma risolveremo questa cava e poi sì che ci saranno guai grazie a tutti